Oggi viene tuo figlio Marco a trovarti, sei contento? Allora sei contento che viene tuo figlio a trovarti oggi? Chi viene? Tuo figlio. E come si chiama? Marco, si chiama Marco. È un bel nome? Lo è. Chi è Marco? Tuo figlio e viene oggi a trovarti. Viene oggi? Chi viene? Tuo figlio viene oggi. E come si chiama? Marco. È un bel nome no? Un bel nome. Marco, mio figlio. E sei contento? Contento di cosa?